iniziamo indietro le spalle 3 4 5 6 7 8 ancora 8 7 7 5 4 3 2 e 1 un braccio e l'altro 2 3 4 5 piano Giulia 6 Giulia è della grimposa 8 ancora 8 7 ah benissimo 4 3 2 e 1 gira in avanti e aggiungiamoci la torsione nel giro 2 3 4 5 6 7 8 e ancora 8 6 6 5 4 3 2 e 1 continuiamo con le torsioni twist twist fermo il bacino fermo 2 2 3 4 5 6 7 non siamo al bacino però puntiamo il piede qui 2 3 4 5 6 6 7 e ancora 8 6 6 6 5 4 3 2 e 1 mantengo i piedi punto i piedi questa volta flessione laterale del busto allungando il braccio 1 2 3 4 5 6 il Mauro ieri era arrabbiato perché aveva male le gambe 8 7 1 6 5 6 4 3 ma non sono adabbiata quando mi fanno male le gambe 2 1 punta solo il piede 2 3 4 5 passo il centro con un piegamento profondo 2 3 4 5 6 7 8 rimango solo col piegamento 8 2 piedi un pochettino estraruotati su un sport piccoli piccoli 4 5 7 7 8 molleggio 8 8 7 7 5 4 3 2 e 1 1 2 3 4 5 6 7 7 piccoli piccoli molleggio 8 2 3 4 5 6 7 8 riprendo punto e passo con un piegamento piede scendo piego 6 2 3 4 5 6 7 8 con gli ultimi 8 7 7 7 5 4 3 2 1 gluteo su e spinga indietro le braccia qui 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 5 4 3 2 1 passo e chiudo piego al centro qui piego giù finiamo il riscaldamento giù qui per il riscaldamento bene jumping jack semplici semplici chi non vuole saltare ok giulia tu salti ricordatevi le braccia salvo scendo salvo scendo ok claudia se vuoi fare come la forza va benissimo eh vedi tu si qui su guardate che grinta la giulia che arrabbiata così mi piace mi piace infatti quando la vedo grintosa dico sì che arrabbiata meno male che arrabbiata così mi lavora di più è già passata l'arrabbiatura mannaggia puoi andare siamo quasi un minuto e mezzo sempre stop prendiamo un pesetto solo un pesetto qui e su scendo su scendo su scendo su due su tre su quattro scendo su sette otto su ancora otto sette cinque quattro tre quattro col peso dall'indietro mi raccomando su 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 e su 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 qui su 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 Su. 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 Mi raccomando non abbandonate mai il braccio, non fate scendere il gomito di sotto della spalla, su, su, i primi si fanno in soltezza, eh? Su, 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 Mauri, resisto, non si molla, su, tanto un minuto finisce, è mezzo. Su, 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 e su, 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 non abbiate fretta perché più veloce li fate, peggio è. Su, 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 e Giulia ha ancora qualche rima azuna di incazzatura perché ogni tanto si filerà. Da un'accelerata con un gran colpo, come dire adesso ti do un pugno. Su, 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 su. Su, su, su. Su, su. Su, su. Su, su. Su, su. Chi non salta su e su. Ok? Invece chi salta... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. 8, 2, 3, sono su così. 5, 6, 6, 7, cambio. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Due, tre, quattro, cinque, sette, sette, cambio, stop, e, la Giulia fa una cosa diversa, fa niente, cambio, tre, quattro, cinque, sette, cambio, uno, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, stop, un'unica verità della gamba più allenata dell'altra, ora, facciamo finito di essere calciatori, apro e apro, 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 avanti giro, avanti giro, dall'interno all'esterno, apro, apro, qui, giro, 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 eh? No, non mi sembra il caldo, si appoggia male a un piede, ti rompi tutto, Mauri, eh? Per dire il calcio ci fanno tante belle cose, qui non stiamo giocando qua l'oltre, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e stop, affondi, lato, e tu, lato, e tu, lato, e tu, mi raccomando buttatevi qui, lato, qui, lato, qui, lato, lì, lato, e tu, cercate di tenere il piede piatto, piatto il piede, piatto il piede, così, allunghiamo anche, da una parte allunghiamo, dall'altra no, qui, giù, 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 se volete usare le braccia per bilanciare, è come se fosse un matrimonial lunge, giù, e qui, giù, e qui, piegati di meno, Claudia piegati di meno e ricordati il peso, sempre dietro, eh? first, giù, let me take a selfie, e su, giù, qui, giù, su, giù, 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 e stop, si, giù, 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 Su, senza fretta, su, e su, Giulia, non chiudere dietro, spingi, su, 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 sentite sopra le scapole? Non sentite, non sentite il triciste? Bene. La Giulia aveva prestissima, non so perché. Dunque, da qui, piedi leggermente aperti, chi non vuole saltare, piego, su, piego, su, chi invece salta, da qui, scendo, chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Come se passa? Giù, qui, giù, 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 giù. Non sfondo, più giù si va, più fatica si fa. giù 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 adesso ci mette la tutta per me bicicletta Claudia mettiti a terra e bicicletta giù 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 bellissimo no giù 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 tutta questa incassatura non è incassata hai provato la pace dei sensi a terra e almeno alto apre chiudo recupero un attimo non 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 ok appoggio i piedi non non gli unisco da qui senni 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 5, 4, 3, 2, e stop. Mi giro, 4 zampe. Da qui, reverse push up, con le mani vicine al busto, i gomiti stretti. Salgo, e giù. Salgo, e giù. Salgo, e giù. Salgo, e giù. Su. Ancora, su. Se vi fa male il polso, provate a stare con le mani sopra i pesetti, in questo modo. Eh, se non fa male, tutti guardate, non fa male. Eh, devo andare a farmi vedere. Perché invece di migliorare, è peggiora. Stop. Da qui, passiamo da virtual a dog. Quindi, da qui, stendo, e qui. Stendo, buttando indietro il peso, eh. Schiacciandoci indietro. Schiacci indietro. Torno. Schiacci indietro. Torno. Indietro. Torno. Inietro. Torno. Indietro. Torno. Indietro. Torno. Indietro. Torno. Indietro. Torno. Indietro. Torno. Indietro. Indietro, torno. Su, torno. Indietro, torno. Indietro, torno. Indietro, torno. Indietro. E stop. Ritorniamo in piedi. Si ritorna a saltare un pochettino. Chi non vuole saltare, da qui, flessione, 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 ok? Flessione e flessione. Invece noi facciamo un salto in avanti e un salto di lato. Lato, su, lato, su, lato, su, lato, su, lato, su, lato, avanti, lato, lato. La, la, su, lato, su, lato, su, lato, su, lato, su, la... e la su la su la e la su la su la su la e la su la qui la la e la su la su prendo i pesetti qui stacchi a gambe piegate questa volta indietro i glutei su e turno su e turno su e turno su tenete le gambe leggermente piegate su e peso indietro e su se volete potete anche piegare di più piego e su piego su piego su ricordatevi che ho un lavoro fumorale i glutei su la schiena non deve sentire niente le braccia non lavorano su 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 e su 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 e su 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 Ok, con un solo peso, swing e su in avanti, su, anche in questo caso lavorano femorali, glutei per la spinta. Su, 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 continuo, dovete pulire i glutei insieme. Su, 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 qui, su, 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 continuo, sentite tutto in fiamme, pensate che ci sarà un minuto e mezzo dall'altra parte. Su, 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 perché non lavorando le braccia, è tutto gambe, glutei, adduttori, femorali, tutto, piedi paralleli, non girando. Su, 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 si cambia. Va, otto, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, otto, otto, sette, sette, cinque, quattro, tre, due, uno. Su, 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 continuo. E su, 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 dietro e su. Ricordatevi, sono i glutei che svolgono il lavoro, i femorali. La spinta viene data da loro. Su, 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 il braccio fa solo da pendolo. Su, 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 su. Visto che abbiamo le gambe calde Facciamo una cosa bellissima Chi non vuole può sciogliere Anche solo così Ok Questa sembra una stupidanza Ma per gli adduttori Che amici di Ale E dai Giulia Che dopo passa tutto Dopo passa tutto Incazzatura Stanchezza E ho capito Ma l'incazzatura è passata Adesso rimane la stanchezza Perché devi andare avanti Stop Ci rimettiamo a terra Da qui Pedaliamo Con anche le mani sotto i glutei Se volete Volete Alla prossima Dai dai che recuperiamo tutto E stop Piedi a terra Prendiamo i pesetti Sulle braccia Pesetti uniti Scendo Anche staccati Anzi facciamo staccati che lavorano di più le braccia E salgo Scendo E salgo pian piano Scendo Salgo Scendo E su Scendo Su Scendo Su Scendo Su Scendo E su Scendo Su Scendo Su Scendo E stop Stendiamo un pesetto in mano Da qui Una gamba piegata opposta al peso Salgo Saliamo Su Scendiamo Giù Salgo Su E piano piano scendo Giù Salgo Salgo Giulia Giulia tutto bene Salgo Salgo Scendo Giù Scendo Giù Giù Salgo Giù Scendo Giù Salgo Su Piano Scendo Giù Salgo Su Scendo Giù Salgo Giù Scendo Scendo Salgo Salgo E scendo Piano Scendo Giulia Eh Sentite gli addominali Io li sento solo io che fanno malissimo La Giulia gira gli occhi Mi spaventa Sì sì gira gli occhi La Giulia quando sale gira gli occhi Mi spaventa da morire E E Su Mi piano piano senza fretta Giù Salgo Su Mi piano piano senza fretta Giù Salgo Su E piano piano Giù Salgo Su E senza fretta Giù Salgo Su E senza fretta Giù Salgo Su E senza fretta Giù Salgo Su è tutta stop risalgo chi non salta calci anche bassi ok noi invece diamo un calcio di lato due jumping jack calcio calcio uno due calcio calcio uno uno lì lì uno due uno due lì lì due qui qui uno due qui qui lì lì su su qui qui su su lì lì o due qui qui su su questo è divertentissimo eh su su e su su prendiamo in parola il Maurizio ora continuiamo a saltare l'ultima volta poi calci di lato noi avanti avanti due avanti avanti due avanti avanti su 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 è il Mauri che ha voluto tre minuti si si l'ha detto lui saltiamo tre minuti su 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 perché così Giulia vai via felicissima su su povero Mauri su 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 e su su qui qui su 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 stop a terra ora lo mettiamo in difficoltà destra sinistra destra destra scende 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 giù giù ok aiutatevi con la mano eh se non riuscite datevi la spintarella anche col peso va bene bene no direi che col peso è più facile dai dai che serve per gli obliqui dai dai che serve per gli obliqui ecco è finito non ha sentito poi sì ah peccato peccato un po' di quadrupedia bocca a bocca facciamo questo lavoro stendo incrocio stendo e giù salvo incrocio e giù salvo incrocio e giù salvo incrocio e giù salvo incrocio salvo incrocio salvo incrocio salvo incrocio salvo incrocio salvo salvo incrocio incrocio Salvo, incrocio, salvo, incrocio, salvo, incrocio, salvo, incrocio. Continuo! Salvo, incrocio. salgo, incrocio, salgo, cambia gambetta, salgo, incrocio, salgo, incrocio, salgo, incrocio, salgo, incrocio, salgo, incrocio, salgo, incrocio, Salvo, incrocio, salvo, incrocio e salvo, incrocio, salvo, incrocio. Salvo incrocio, salvo incrocio, salvo incrocio, salvo e su, salvo incrocio, su, incrocio, su, incrocio, su, incrocio. Su, incrocio, su, incrocio, su, incrocio e sto, lo piego sui glutei, allungo le braccia e appoggio la frontaterra sul tappetino. Appoggio le mani vicino le spalle. E sollevo il busto, mi chiedo qui. Pian piano salgo mantenendo le mani a terra e allargo le gambe. Porto le mani perpendicolari a un piede e piego la gamba opposta. Salgo, cambio e piego. Salgo, mani ancora al centro, avvicino un pochettino i piedi, piego le ginocchia, appoggio la pancia sulle gambe e srotolo pian pianino la colonna. Giro indietro le spalle. Prefironi. Su. E giù. Ancora uno. Su. E giù. 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 E giù.